Nulla è più importante nello sci che gareggiare sulla Strife. Non puoi permetterti di avere paura sulla Strife. Se succede, hai già perso. Serve coraggio per quella discesa. Solo usando potrai conquistare la Strife. Ed è una cosa molto difficile. Spesso la sensazione che provo a Kitzbühel è di entusiasmo. Il pubblico è lì per vedere uno spettacolo, un campione che rischia il tutto per tutto. Ciao! Ciao! Ti amiamo! È la discesa libera più insidiosa. Ha messo fine ad alcune carriere, ha distrutto sogni e speranze, ma ha anche elevato atleti ad un livello superiore. Scemo! Se ce la fai e sei ancora tutto d'un pezzo, senza danni fisici, sai quanto dura possa essere Kitzbühel. La pista è la cosa più difficile. Ci sono un sacco di giornalisti e 50.000 spettatori. L'atleta lo percepisce ed è per lui un onore partecipare. Strife, una gara infernale.